Al grido di la nostra scuola non si tocca. Questa mattina bambini, genitori e insegnanti dell'Istituto Comprensivo Grazia dell'Eda di Nuoro sono scesi in piazza per manifestare contro la volontà calata dall'alto dell'accorpamento all'Istituto Comprensivo Mariangela Maccioni. Allora questa manifestazione dell'IC4 Grazia dell'Eda per dissentire riguardo alla decisione del dimensionamento e dell'accorpamento dei due istituti per diverse motivazioni. La motivazione principale è che noi crediamo che nella scuola non bisogna risparmiare ma bisogna investire. Bisogna investire nel futuro di questi bambini che hanno il diritto di continuare a credere nella scuola, nella loro scuola. La scuola di quartiere, la scuola dove loro hanno iniziato il percorso e dove il percorso deve essere concluso. Parliamo di bambini dai 4 anni ai 3 anni ai 14 anni, quindi una fascia d'età anche molto dedicata che non deve essere assolutamente toccata. Evidentemente c'è stata già una delibera regionale però siamo anche convinti che la scuola vada difesa oggi, domani, dopodomani e siamo anche convinti e sappiamo che quando c'è una volontà politica letta, inequivocabile di tutelare il territorio si riesce, come dire, a modificare anche decisioni che apparentemente sembrerebbero definite. I manifestanti dopo aver protestato davanti al comune e incontrato il sindaco Andrasoddu hanno proseguito e terminato la manifestazione davanti al palazzo di governo, dove una delegazione ha incontrato il perfetto Giancarlo Dionisi. Grazie a tutti.